Bentornati su MyFootballJersey! Oggi vediamo questa splendida maglia, la prima dei Glasgow Rangers, per la prossima stagione, in edizione FAN! Oggi vediamo la prossima! L'azzurro e il blu di questa maglia è strepitoso, qui in alto vedete il costo, fantastico anche questo, incredibile! Vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia, andate a vedere perché c'è anche un link per ottenere un coupon di 3 dollari, quindi il costo di prima diventa ancora più basso! Prima di lasciarvi, mi raccomando, iscrivetevi al canale! È l'unico modo che avete per avere sempre nuove recensioni! Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa, quella che vedete è una taglia media della versione FAN!